Non si premiano più i singoli comuni, ma i comprensori turistici puntando soprattutto sul mare più bello. È stata presentata a Roma la guida blu di Lega Ambiente Touring Club, che assegna da 1 a 5 vele. Nel Lazio non ci sono comprensori di eccellenza con 5 vele, ma comunque sono arrivati dei riconoscimenti per 5 zone. 4 vele alle isole ponziane, ponze e ventotene e alla maremma laziale, 3 al parco del Circeo e alla riviera d'Ulisse. Si ferma invece a 2 vele litorale romano. La classifica è il frutto dello studio di oltre 100 parametri sulla accoglienza turistica, la sostenibilità delle scelte territoriali, l'accessibilità del litorale, la qualità e la bellezza ambientale e naturalistica. Anche quest'anno nel Lazio nessuna località raggiunge il massimo punteggio nella guida blu, ma il mare della nostra regione può e deve migliorare, soprattutto in alcuni territori che per vocazione possono seriamente aspirare alle 5 vele e all'eccellenza ambientale e turistica. Queste le parole di Roberto Scacchi, presidente di Lega Ambiente Lazio. Continuano comunque ad essere le isole ponziane e la maremma razziale i luoghi con il punteggio più alto. Oltre a Ponze e Ventotene, i comuni del Basso Lazio, che fanno parte dei vari comprensori premiati, sono San Felice, Sabaudia, Terracina, Sperlonga, Gaeta, oltre poi Adanzio e Nettuno. Grazie. Grazie.